La nuova legge sull'agricoltura sociale e le sue implicazioni al centro di un seminario organizzato dall'Istituto Caritas di Modena. L'obiettivo è l'inclusione, il mezzo e il lavoro, gli attori in campo, il Caritas, le istituzioni e le associazioni agricole. C'è una nuova legge intitolata agricoltura sociale che offre delle grandi opportunità per intervenire nel settore sociale. Noi che ci occupiamo come Istituto Caritas di disabili gravi, forti, abbiamo individuato che qui ci può essere una possibilità attraverso questa legge di utilizzare al meglio il compito, di fare al meglio il compito che ci è assegnato, cioè di aiutare chi ha disabilità ad esufruire dei propri diritti come cittadino, come tutti gli altri e a noi di imparare che l'inclusione sociale non è un solo un dono di benevolenza, ma è un modo per far crescere la civiltà di un popolo. Parliamo di agricoltura sociale. Di cosa si tratta? L'agricoltura sociale è una formulazione legislativa di una realtà che nel tempo è anche esistita, ma che non aveva mai trovato una sua collocazione specifica nel mondo dei servizi e dei servizi alle persone, in particolare di quelle che ci interessiamo noi, delle persone disabili. Nel buon senso comune la gente l'ha sempre pensato che una vita l'ha riaperto, una vita in una realtà come quella dell'agricoltura o altro, potesse essere una vita migliore rispetto a una vita di tipo ossessivo, ossessionante, che può essere una città, una fabbrica e via dicendo. Però di fatto questo non poteva avvenire o avveniva in maniera molto sporadica o spontaneamente legato a particolari situazioni familiari o ambientali, perché non esisteva una legislazione in qualche maniera a tutela e a garanzia di questo sistema, che garantisse da una parte la persona che si avvicinava a questo mondo, ma dall'altra anche le aziende agricole, le aziende che potevano ricevere queste persone, perché se non mettiamo alcune regole i rischi possono diventare alti per gli uni e per gli altri. La riscoperta dell'agricoltura, che vuol dire anche riscoprire i territori extraurbani, vuol dire anche permettere a chi non nasce in una città di avere una possibilità, perché un altro aspetto importante è questo, avere un figlio disabile può voler dire per una famiglia, poteva voler dire per una famiglia trasferirsi in una città, perché dove vivevano non c'era la possibilità di un minimo futuro. Oggi le famiglie pensano ai figli disabili non più solo come un problema di assistenza a vita, ma pensano anche come può fare oggi la riabilitazione di un loro recupero e di una loro, anche se solo parziale, rintegrazione nel tessuto sociale. Però per far questo ci vogliono non solo gli strumenti, ma anche le condizioni di accoglienza nel tessuto sociale. L'agricoltura sociale può diventare in un paese come l'Italia un importante punto di riferimento per una ripartenza dell'occupabilità, per certi versi, delle persone disabili.